Ciao ragazzi, qui c'è il craco, c'è quanto è schifo? Ah, Yakuta 5, allora, mi sono fermato davanti qua Io volevo andare avanti con la serie, ma secondo me parte da sotto questo qua, guarda, eh Invece no, dobbiamo andare al centro, no, no, va bene così Abbiamo schifato la sotto questa, entriamo qui, entra, entra Mamma mia, ragazzi, comunque siamo già ai cinquantasettesimi Perciò maestro, il gioco diventa più lungo di Yakuta 0, secondo me, eh Io ve lo dico Secondo me, stasera diventerà più lunga di Yakuta 0 Ok Ok Salve Cristina Ah giusto, abbiamo cantato nel parco Vediamo un po', sarà l'ennesima canzone la stessa volta Ormai, Haruka dovresti saperlo a memoria ormai sta roba Allora, voglio il mio regalo, chissà che cacchio è Cioè Ma Ah Va bene, va bene, ok, va bene, oh Buttalo via Sinceramente, eh Notifica del telefono Allora Allora E tu di andare di sopra Salve In che senso è un'evaluation Ok Ah, è per vedere se siamo, se dobbiamo farmare ancora o no, ok, vabbè Grazie, bella sta cosa comunque, eh Questa qua, per favore, non voglio fare sempre la stessa solita canzone Normal Normal Che Cioè, basta ragazzi, basta Che fa Cioè, anche no Cioè, per la mia sanità mentale proprio 303 canzone 303 noti di suone sta canzone Ho sbagliato la prima, ho sbagliato Tavoli vostri Vabbè, comunque Questa canzone mi piace decisamente di più dell'altra Cazzo, ho fatto eccellente Aroka Very nice Grazie mille Ok Mi dai l'exp? Non mi da l'exp, non mi da l'exp E mo? E mo che cazzo si fa? Ah, giusto, dobbiamo andare a fare shopping con la signora Park Allora, ehm Guardate cosa mi tocca fare Allora Signora Park Allora Oh Guarda, tira una salvata prima, va Dio, ragazzi Io, è il 28 di febbraio Di febbraio Di febbraio Di ottobre Io ho caldissimo Sto in maniche corte, ho caldissimo Credo che Parkson non è tornata Ah, madonna Allora sì, invece mi sento una pepaura E vabbè Allora Allora facciamo apposta Procastinare sempre Oh no Perché il polso mi fa male Eh Guarda che sta scrivendo un po' male E' un gioco Non è giusto? Non è giusto? Non è giusto? Non è giusto? Beh, sì Mi sono andato a dire Allora 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 Dio Eh Si Eh Si Allora Allora eh Ma sono proprio curioso di vedere dove va a finire la trama adesso, sono proprio curioso, guarda, perché c'è da dove si va avanti qua così Ah, non lo so da nessuna parte, vestiti? Non ho fatto shopping da quanto sono qua, ho comprato una giacca e basta, e devo essere una pop idol, senti un po', tutto quello che mi... Eh, va bene, va bene, sì Eh, le marche, le marche, ma costa un fottile roba le marche, ma costa tantissimo la roba, minchia, proprio sbarrata la strada proprio Ehm, ma allora non posso andare di qua, perché no? Però posso fare il giro di qua, ma in realtà non è più corto fare così, ma stai cricamente più corto andare di qua Ma le marche, vabbè che non pago io, però, vabbè Senta, signora Parco, signora Parco, lei è troppo dist... lei è troppo lenta, cioè, non è possibile Ah, signora, signora Parco, mi è piaciuto vederla Come stai stasera? Sì, la che non sono per nome, è un posto costoso come questo, deve essere una cliente abituale Arroga, la cosa è un po' la fisica tutta sua, però, vabbè Sto cercando un outfit per questa signorina Molto bene, signora, in questo caso, cosa credi, pensa di questo? Mmm, Arroga, no, come devo scegliere io? Io? Ok, lo sceglia io? Sì Non puoi vestirti come dicono gli altri Devi sviluppare il tuo senso dello stile Ehm, vabbè, va bene Mi scusi? Sai? Sì, vabbè, no, è il top, tanto, oddio, sopra È il mio top, ok, capito Ma che cazzo ne so io? Questo è da, questo è da cafuni Questo è... Questo sembra troppo, sembra troppo normale, in realtà Questa è la camicia che mette mio padre per andare nell'orto No, quasi, però, c'è uno uguale a casa Oh no, vabbè, comunque è una camicia del cazzo Io direi di mettere questo qua, secondo me Sì, sì, prendi questo La gente apprezza Credo piace questo Ok Non puoi sbagliare Soprattutto la pelliccia leopardata Vabbè, l'Aruka con la pelliccia leopardata Lasciamo perdere Sì, eh Madonna Ma che cazzo è sta roba? Ma sembra una maldracca se si mette su questa roba Ma dai Sì, ma è ovvio Quello che devo prendere qua Palesemente C'è realtà anche questo Se questo è realtà Non sarebbe male Però l'Aruka con le bracche non ce la vedo, sinceramente Ma adesso l'Aruka Ma, senti Senti, facciamo le cose fatte serie Siamo la roba più costosa di tutte quante Vedi che non ha l'Aruka Non ci sta l'Aruka con le bracche Ok, quindi Ah, madonna Ma che questi sono orripilanti Questi sono orripilanti Questi sono, madonna Non c'è niente che si salva Ma è ovvio quello che devo piccare Scusa, ma è ovvio C'è uno Va bene Va bene Una borsa rossa generica Ok Un momento Ma non ho guardato i prezzi Tu prendi la cosa più costosa e basta Cosa ti ho detto? Non devi preoccuparti Pago io Grazie millissime E' qua Ma fammi vedere come l'ho conciata almeno Per favore Cioè ho capito Mi devi far piccare i vestiti Fammi vedere come l'ho conciata almeno Dimmi che ci sono tre cutscene Non me la fa vedere Ma porco Ma che cazzo mi fai piccare i vestiti Se non mi fai nemmeno vedere come ho messo a posto Aroca Ah Ho un arcade Un arcade Madonna Potrebbe essere una buona Una buona chance Per vedere cosa fanno i ragazzi Della tua età Cioè Mamma mia Proprio Aristocratico Proprio Comunque ragazzi Devo raccontare un aneddoto Che mi ha raccontato un amico Che Questo qua Lavora All'uni euro Mi è arrivata una madre No Con il figlio E detto Eh Vorremmo avere Una console La switch Per mio figlio Però lui non la voleva Lui dice Ma a me piace leggere Perché così si integrava Però lui Al figlio non gliele fregava Una sega nulla Se gli davi un libro Era meglio Però vabbè Che giochi Beh Ok No Il taico Ah madonna È una roba ritmica Va bene Oh guarda Se io posso giocare in due Oh madonna Sai come giocare? No ragazzi Ma No il taico È la tua mano Scusa No a poco parte Eh madonna Addirittura Ma il taico Sembra che ragazzi Tu vuoi tanto provare il taico Ma Presta in i button No questo sembra Troppo semplice Ma cosa Ma questa è la sinfonia No che cazzo Dovrei dire uno strafaccione No voglio fare questa Assolutamente Voglio fare questa Assolutamente Da fare questa I comandi Niente comandi Va bene Non mi dice niente Mi dice niente Frega un cazzo Ti arrangi Ah grazie Eeeh Tap For larger bits Eh L'ultimo non l'ho capito Però Ok Aspetta Va bene Ho capito È la tastiera Come funge Ma scusa Ma scusa ma Sono quattro tasti Al 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 Aspetta Al As 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 Aspetta Al As Ma scusa ma Ma che Ma scusa ma Che differenza Avete Se batto Io ho paurissima Allora Wait RIM A L Ok Proviamo 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 A A L SK A L Gli esterni L Ma vabbè Select No E A L S Ma posso rifare i tasti però Vabbè Proviamo A L SK Ok Dai proviamo Ok Proviamo Merda Merda Eh vabbè Che cazzo sto guardando Meno E L'haga pure L'haga pure Merda Merda Cazzo ma Tai con l'haga C'è Ma Cosa sto guardando Cosa è sta roba Cosa sto guardando Cos'è sta Merda 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 Mortazzo vostro con una tastiera è difficilissimo, figuriamoci fallo nella vita vera, madonna, questi si vistono la mia impiditudine nei giochi indiani, nei giochi ritmici, ragazze sono negato proprio, poi lagga pure, lagga pure, ma come 165 combo, ah 165 good, ah ecco, semmai farlo sul serio è, dal vero è molto più divertente, ed è molto più sfiancante secondo me, vabbè, ehm, ti ho capito, possiamo andare avanti? No, quanto pare no, devo prendere qualcosa con la tastiera? Ah, ok, ah, non facevo lui, vabbè, dopo sette ore mi ho detto, ho vinto, sto sudando io, facendo il taiko con la tastiera, ops, hai vinto, che cazzo ti scusi? Eh, va bene dai, facciamo finta di sì, è stato molto divertente, addirittura, ok, cosa vuoi fare? Oh, ho le foto, facciamo una foto insieme? Non vuoi? Sì, no, che sono solo contento, contenta, no, eh, ah, qua sarebbe una madre, precisamente, Kiryu ho capito, Kiryu, tutto quanto, però, sai, serviva, vediamo che foto di merda è uscita, cosa? Perché non mi hai avvertita? Eh, l'ho fatto, non c'è stato il countdown prima, ecco, molto meglio, Fammi, potete farmi vedere le cose? Ma non mi fanno vedere niente, che palle! Addirittura, è terribile! Cioè, non mi fanno vedere, non mi fanno vedere i vestiti che ho portato d'arga, non mi fanno vedere le foto, ma porco due! Cioè, ho capito io che sto gioco un po' un T4, però almeno fammi vedere le foto, dai! Anche se sono stock! A direi, due ragazze importanti! Ma succede qualcosa di brutto, ho sicuro! Succede la merda! Guarda, guarda! Oh no, 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 tienile per mano, dai, tienile per mano, dai, almeno una cosa carina! Ola! Che poi ripeto, lo avrò anche gettato, ma si assomigliano, ma perché tu... Non so se sembra un razzista, ma un po' tutti... No, non lo dico! Beh, un po' si assomigliano però! Però loro due si assomigliano per bene! Ma se no, ma in macchina dove cazzo state andando? Ma dove state andando in macchina? Che si può andare a piedi all'Arcade! Vabbè, io devo smettere di farmi domande, va bene! Ma devo ancora vincere, ma questa è fortuna sfida! Una penna? Ok! Vabbè, è una penna bella, cioè... Allora che hai visto, hai la penna... ...personale... Ah, ma la sua penna! Quella penna lì fa una bruttissima fine! Sicuro! Ma mi sembra che non ha portato tanta fortuna, eh! Ah, ma... Il educa è un po' di meno! Si bambino è un prognino di potere, non ha fatto? L'amore è un po' che di più difficile, quando il l'amore... Non tropewa, niente modo... Non è un po' di più difficile usare? Con chi? Fugliano, c'è un idol già sposata Un paccato Un paccato Oh no E si chiama Park, quindi io non scemo Park è un cognome coreano E' un bel problema Quello non è da farlo però Eh non so ma anche tu Non sto giustificando però E' un po' E' un po' Ma se non vuoi fare l'idolo e ti sposi Ma sei scema E' un po' 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 Proprio E' un po' 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 Proprio E' un po' 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 Arca E' un po' E' un po' E' un po' Troppo tranquillo E' tutto troppo tranquillo Io ho paura Ho paura che succeda la merda Allora raga Io direi che Per questo avvento Ia45 abbiamo scluso Mi sembra perfetto Sto episodio Così Se non ci piace Comenta, scrive e ci vediamo Al prossimo video